buongiorno sono federico rubini da qualche anno insieme ad alcuni comuni che l'anno scorso sono diventati 17 sto portando avanti un progetto che si chiama le terre dei borghi verdi oggi siamo qui alla cascata delle marmore perché terni con il budget del 2001 di questo bando ha voluto realizzare ha voluto abbigliare il nuovo infopoint della cascata il nuovo infopoint della cascata come vedrete contiene materiali del diciamo delle ex municipalità ternane e poi contiene anche tutti i materiali di quelli che sono i 21 comuni che fanno parte di questo progetto progetto le terre dei borghi verdi che è stato finanziato l'anno scorso con fondi della regione c'è ancora in fase di realizzazione in fase di affidamento il nuovo bando per l'anno 2022 in cosa consiglio le terre dei borghi verdi fondamentalmente consiste in un territorio che si mettono insieme per promuovere appunto questo territorio promuovere attraverso delle iniziative di turismo lento che possono essere da attività in minima infrastrutturali come può essere l'info point ma come possono essere dell'attività come passeggiate passeggiate in bici passeggiata in bicicletta che venti sono state realizzate nel corso ovviamente del 2021 stati realizzati circa 50 eventi tra camminate e biciclettate diciamo e nell'anno 2022 se verrà approvato il bando come credo che verrà approvato verranno realizzati ulteriori eventi verranno realizzati eventi dai singoli comuni che fanno parte di questa di questo raggruppamento in più l'idea è quella di proporre tra settembre e novembre in un periodo di destagionalizzazione quindi in un periodo dove vengono fatti meno eventi rispetto all'estate degli una sorta di festival delle terre dei borghi verdi dove ogni weekend farà riferimento a degli eventi di turismo lento che potranno essere fruiti speriamo da turisti un po da tutta Italia e speriamo anche dal di fuori dell'Italia